Con questi punti vorrei rivolgermi o fare una introduzione breve di queste conferenze della Comunitas e il tema principale di Comunitas 2021, cioè la predicazione e le arti. La serie di conferenze Comunitas è stata fondata nel 2018 dal nostro rettore Don Michael Palusch, risposta alla chiamata di Papa Francesco a sviluppare forme di conoscenza interdisciplinari e transdisciplinari. L'Università Pontificia Sant'Omaso Aquino può farlo in modo particolarmente potente, poiché il suo insegnamento è basato sul pensiero di Sant'Omaso. La sua filosofia e teologia, intese in modo storicamente sensibile, possono fornire una piattaforma comune per tutto l'insegnamento nelle nostre facoltà. Il tema della conferenza di quest'anno, la predicazione e le arti, è stato scelto non solo perché è particolarmente caro al cuore di tutti i Domenicani, che quest'anno celebrano l'800 anni, quindi l'anniversario della nascita di San Domenico, ma anche perché è un argomento di grande importanza per chiunque sia interessato a predicare il Vangelo nel XXI secolo. Siamo in un mondo che sta diventando sempre più visivo, narrativo e secolarizzato, in cui una presentazione razionale della fede viene spesso rifiutata. Nel frattempo le arti stesse, almeno in Occidente, hanno sviluppato un rapporto incerto con le fonti di ispirazione religiosa. La nostra sessione inaugurale di oggi si immergerà immediatamente in questo insieme, molto importante, con la presentazione di padre Alain Arnoux sul ruolo delle arti contemporanee nella vita della Chiesa di oggi e con la risposta al suo intervento dell'artista Suormarina Paolina Casparova. Quindi lasciate che vi presenti i nostri oratori di oggi. Padre Alain ha conseguito il dottorato di ricerca in storia dell'arte a Gard nel 1992 ed è entrato nell'ordine dei predicatori nel 1993. Dal 2001 al 2017 è stato cappellano degli artisti a Bruxelles, presso la cattedrale di San Michele e Gudula, dove è stato coinvolto in varie mostre, concerti e spettacoli teatrali. Dal 2017 lavora nella curia generale dell'ordine dei predicatori come socius del maestro per il Nord Europa e per il Canada. Oltre a vari articoli sui codici miniati e sulla fede e le arti, le sue pubblicazioni includono il catalogo, vari cataloghi, per esempio quello che ha avuto luogo a Cambridge e molte altre. Più recentemente si è occupato di spiritua nell'arte, i dominicani e le arti visivi. Il dottor Maria Paolina Kasparova sta attualmente lavorando come artista religiosa indipendente ed è una dottoranda dell'ultimo anno presso l'Università Angel Ruskin nel Regno Unito e nella Federazione Teologica di Cambridge. Presenterà la sua tesi e solterà il suo esame dal vivo prima dell'estate. Acquisito esperienza di ricerca mentre conduceva il suo progetto indottorato in Teologia e Belle Arti dal titolo Arts as a Living Theology. In fronde le discipline giocano un ruolo uguale nella sua ricerca. La prospettiva teologica fornisce la piattaforma e i confini entri i quali l'arte viene creata. Mentre l'arte aiuta a estendere questi confini oltre i loro limiti accademici e offre un modo specifico di esprimere la realtà e di strategie per la sua interpretazione. Quindi ora è un grande piacere passare la parola a Padre Alain. Grazie, sorella, per le sue gentili parole e la sua introduzione. Sono molto onorato di aprire questa conferenza di Comunitas su un soggetto che mi è molto caro. Vorrei proporre a tutti i partecipanti, che sono tutti benvenuti anche se non vi vedo, però di darvi il benvenuto. Quello che ci unisce oltre tutto è la nostra fede e vorrei aprire questo con una preghiera. Nel nome del Padre e del Fio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, creatore del cielo e della terra, ci ha dato la tua nominità, l'ispirazione per esprimere il tuo dono. E nelle arti e in molti altri modi, attraverso l'intercessione di frangelico, ci chiediamo di aprire i nostri cuori e le nostre menti per essere creativi alla tua parola, al tuo messaggio e alla tua volontà. aiutaci di offrire al mondo oggi risposte creative e aiutaci di comunicare il tuo amore e la tua preoccupazione per tutti quelli che sono vivi oggi attraverso Cristo, nostro Signore. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E allora, in cominciò questo discorso. I think the ideas which I shall develop can also apply to other artistic expressions such as music, architecture, dance, cinema, literature, etc. But I have chosen to speak about visual arts not just because it is my primary interest, but also because it seems to me that visual arts is summarise the issue of church-arts relationships today. And this is the subject which the community does. in a life precedente, in my nativo belgio, comunità parrocchiali a volte mi invitavano per chiedermi di parlare con loro delle relazioni chiesa-arte, in particolare per quanto riguarda le arti visive. Spesso posto loro la domanda provocatoria se la loro chiesa parrocchiale contenesse un'opera d'arte del XXI secolo. C'erano poche possibilità che la risposta fosse positiva, anche se a volte sono stato sorpreso, anche da qualche eccezione. Asseggiando per le gallerie dei Musei Vaticani qui a Roma, il visitatore farà la stessa osservazione. troverà opere d'arte fino al pontificato di Papa Paolo VI. Ma né Papa Giovanni Paolo II, né Papa Benedetto XVI e nemmeno Papa Francesco hanno preso molto a cuore l'estensione delle collezioni per portarli ai tempi attuali. Il visitatore dovrà sforzarsi di trovare opere risalenti agli ultimi 40 anni. Questa mancanza di interesse dalla Chiesa per l'attuale espressione artistica è tanto più sconcertante quando si pensa che il cristianesimo latino non abbia mai avuto problemi a introdurre nuove opere d'arte man mano che generazioni di fedeli si sono succedute. Nessuno ha mai obiettato, per esempio, che una pala d'altare gotica fosse esposta in una chiesa romanica oppure un baldachino barocco costruito su un'antica tomba o una statua in gesso della Madonna che sostituisse una gotica nella cappella dedicata alla madre di Dio. Nella Chiesa Latina esiste una lunga tradizione di adattamento di un luogo di culto a nuove esigenze e nuovi stili questo scarso interesse per le attuali espressioni artistiche nelle chiese solleva una questione che va oltre quella della capacità di una comunità di decorare il proprio luogo di culto per la generazione contemporanea. Quest'ultimo è solo un aspetto riguarda anche e penso ancora più importante il modo in cui le comunità cristiane sono in relazione con il loro ambiente e con la società e per estensione si può dire che il modo in cui è adattata una chiesa ci dice qualcosa sulla teologia di coloro che vengono e adorano in questo luogo. per rispettare il tempo che abbiamo a disposizione tralascio la breve presentazione storica del rapporto tra arti visive e chiesa e anche un tentativo di definire l'arte cristiana alla versione pubblicata di questo articolo. durante questa video presentazione vorrei concentrarmi su alcuni aspetti che riguardano le sfide attuali per le relazioni chiesa-arte. In una prima parte mi soffermerò su alcune delle sfide che le comunità cristiane devono affrontare quando entrano in conversazione con le espressioni artistiche odierne. In una seconda parte presenterò i possibili benefici che un rinnovato rapporto tra arti e chiesa possono offrire. Vediamo allora il primo e vediamo un po' gli ostacoli per i cristiani nell'entrare in dialogo con le arti visive odierne. La parola arti contemporanee viene pronunciata in un contesto ecclesiastico spesso far rabbrividire tuttavia non bisogna dimenticare che dall'inizio della presenza delle arti visive nei luoghi di culto gli artisti hanno portato l'arte contemporanea nelle chiese. Un'opera d'arte è per definizione contemporanea. Parlare di arte contemporanea è infatti un pleonasmo duccio prodotto arte contemporanea così come anche Frangelico Rubens o Tintoretto e dunque dovrebbe essere considerato tradizionale e normale includere le espressioni artistiche odierne nelle nostre chiese. Ma quali sono le ragioni di queste apprezzioni nei confronti delle espressioni artistiche di oggi? Quali sono gli argomenti che oggi ostacolano la comunicazione tra artisti e molti dei nostri contemporanei? Quali atteggiamenti impediscono di impegnarsi in un dialogo franco e fecondo? il primo è l'ostacolo dello estraneamento come ha detto già Sor Helen nella sua introduzione il nostro mondo è in gran parte secolarizzato e quindi allontanato dalle fonti del pensiero cristiano e del credo cristiano dunque siamo straniati dall'opera d'arte quando l'opera d'arte è presentata in un posto di culto e ci allontaniamo da questo oggetto spesso dicendo non capisco questo e va oltre la mia capacità di comprensione oppure se ho bisogno di una biblioteca per non è più arte l'arte dovrebbe essere un'esperienza emotiva a prima vista questa questa critica questa cosa è particolarmente critica contro l'arte concettuale o minimalista dove l'idea e la preparazione sono più importanti del risultato finale dell'opera ma c'è un paradosso in questa missione per avere un'esperienza noi viviamo in una cultura in cui il ragionamento positivista o il paradigma tecnico per citare un termine usato da Papa Francesco determina il nostro approccio alla vita che ci viene incontro cerchiamo costantemente di capire come funzioni tutto ciò che ci circonda d'altra parte l'emocrazia fa parte della nostra vita quotidiana come se il razionalismo richiedesse una maggiore emotività in questo paradosso l'arte è spesso confinata al mondo dell'emotività per la maggior parte di noi l'esperienza artistica riguarda principalmente uno stato mentale emotivo immediato quando guardiamo un dipinto una scultura un'incisione un'opera teatrale ci aspettiamo di reagire immediatamente o con disappravazione oppure con meraviglia o lode se dobbiamo pensare a un lavoro particolare prima di esprimere un giudizio ci scoraggiamo e passiamo poi all'osservazione successiva eppure l'arte sia antica che corrente moderna non appartiene esclusivamente al mondo delle emozioni richiede anche un approccio razionale può fare appello alle nostre emozioni così come alle nostre capacità cerebrali e di ragione facciamo un esempio di un'opera d'arte extempore non suspetto guardiamo il dipinto che c'è sullo schermo di Jean Belgambe un artista francese fiammingo di inizio XVI secolo e guardate questa pittura e se avete un background cristiano sarete capaci di identificare la signora al centro della pittura come nostra signora e noterete anche che intorno a lei questo giardino ci sono vari oggetti strani uno specchio una porta degli angeli un pozzo una stella una fontana e un cipresso e vi chiederete anche se voi siete cristiani cosa possono cosa facciano questi oggetti in questa composizione quando realizzate che sapete che queste sono evocazioni della litania alla vergine allora questi elementi assumono il loro pieno significato quando si legge la litania della vergine ci si sorprende dei riferimenti che la pittura contiene in riferimento a questa preghiera e le metafore che regita ma l'osservatore deve avere queste chiavi deve essere in possesso di queste chiavi con il testo con la litania in modo da capire il dipinto e cioè bisogna avere delle conoscenze intellettuali per avere un approccio alla pittura e tutte le pitture in generale in modo da capire pienamente quello che l'artista vuole comunicare quindi per espressioni artistiche antiche come per quelle attuali uno spettatore deve prendersi del tempo per informarsi per entrare nel mondo dell'artista e superare la sua ignoranza e capire il mondo dell'arte un secondo ostacolo per i cristiani e in generale per molte persone per entrare nel mondo delle arti visive contemporanee vediamo la relazione fra arte e bellezza per un attimo ci chiediamo spesso ma dove si trova dov'è la bellezza in tutto ciò è brutto come può qualcosa di brutto essere considerato un'opera d'arte la mancanza di bellezza in un'opera d'arte può davvero lasciare perplessi e lo spettatore ha il diritto di chiedere se mostrare bruttezza o orrore sia un'attività artisticamente rilevante a maggior ragione se viene esposta in un luogo di culto ci piace la bellezza anche non dimentichiamo che i canoni di bellezza sono cambiati a seconda del tempo della cultura pittori come Van Eyck compositori come Bach o Van Gogh non sono sempre stati ben visti questo dovrebbe ispirarci di modestia quando emettiamo un giudizio oggigiorno ma al di là di questa precauzione c'è una domanda e cioè se possiamo usare arte e bellezza come sinonimi la bellezza è davvero una qualità indispensabile al fine di trasformare un oggetto qualsiasi in un oggetto d'arte la breve presentazione non possiamo entrare nel dibattito filosofico sulla bruttezza né possiamo espandere la nozione teologica di bellezza ma ricordiamoci che quando Papa Gregorio Magno nel seicento più o meno ha elaborato una teologia delle arti visive che era di grande importanza per tutta l'epoca medioevale non ha menzionato il criterio di bellezza anche inoltre non dobbiamo dimenticare che la bruttezza ha occupato un posto nella produzione artistica per molti secoli senza dubbio legata alla funzione dell'arte come mezzo per provocare orrore o suscitare il senso di pietà serve quindi a commuovere e scuotere gli spettatori e gli spinge alla riflessione o addirittura all'azione gli esempi sullo schermo Mattias Grunewald del 1505 può essere spaventoso a causa di quello che vedete cioè la crudeltà del del corpo sfigurato e mutilato qui dipingo è crudele il corpo mutilato sfigurato non è bello non è appunto bello i carnifici in il trasporto della croce di erano più brutti dell'altro sono quasi caricaturali e creano un contrasto enorme con la figura al centro della pittura di Cristo che trasporta la croce gli artisti di queste opere hanno scelto di dipingere cose brutte la loro scelta ovviamente non è gratuita lo fanno per suscitare empatia per provocare il disgusto dell'ospettatore o per incitarlo a fare del bene incitarlo a fare del bene la bruttezza è quindi già presente nell'arte antica e non dovrebbe sorprenderci quando ci confrontiamo con l'arte che contiene questo tipo di rappresentazione può essere qualcosa che può sfidarci in modo positivo non sempre ma può essere così vediamo un terzo ostacolo molte opere d'arte molte opere d'arte conscentuale o minimalista non danno l'impressione che l'artista ci abbia dedicato molto tempo e quindi ci troviamo di fronte alla critica che gli artisti mancano nel senso di artigianato e quindi se la cavano producendo arte che manca di qualità questa dimensione dell'artigianato nel senso nobile è a volte difficile da trovare ma certamente non è vero per tutte le opere via d'arte prodotte oggi la quantità di lavoro investita da fotografi video artisti pittori registi scultori artisti di performance può non essere sempre evidente ma guardare alla genesi del loro lavoro rivela che la pazienza e l'abilità oltre alla creatività sono essenziali per ottenere il risultato che hanno ottenuto altri artisti per esempio artisti di arte povera hanno scelto di enfatizzare l'idea più che il processo di materializzazione a volte questo approccio artistico minimalista è una scelta dell'artista per valorizzare la semplicità dei materiali nella nostra vita quotidiana in questo modo lui o lei cerca di creare una riflessione sulla nostra società consumistica a volte infatti è in opposizione alle opere d'arte prodotte industrialmente dove la dimensione artigianale è completamente assente sul vostro schermo vedrete un'opera d'arte chiamato faccioletto che è stato depositato dall'artista di fronte all'altare alto nella cattedrale di Bruxelles molti osservatori visitatori erano scioccati e hanno notato che se questa è un'opera d'arte lo posso fare anch'io gettando un fazzoletto davanti all'altare e molte persone ci sono passati senza notare questo gesto comunque è fascinante è stato fascinante per me di notare vedere e di aiutare la gente a capire quello che l'artista voleva comunicare semplicemente chiedendo la domanda che cos'è un fazzoletto cosa fai con un fazzoletto ecco raccogli lacrime raccogli del sangue raccogli il sudore la malattia qualsiasi cosa di questo tipo in altri termini un fazzoletto se ci pensi per un attimo diventa un simbolo di una vita e quando l'artista Chris Martin fa cadere il suo fazzoletto davanti all'altare lui mette giù la sua vita davanti all'altare e quindi ci invita facendo così di mettere la nostra vita nelle mani del Signore davanti all'altare e quindi un gesto banale con un po' di pensiero e un po' di accompagnamento può diventare simbolicamente un elemento molto potente ci fa confrontare con la nostra fede cosa vuol dire quando si decide di enfatizzare la buona maestria artistica a cospetto di oggettistica varia sto pensando ai nostri osservatori ascoltatori asiatici se lasciamo per un attimo il punto di vista occidentale e ci rivolgiamo all'arte cinese l'arte cinese offre un approccio diverso all'artigianato nel libro che racconta il suo soggiorno iniziatico in Cina Fabienne Verdié un artista francese lei spiega e ci dice del suo maestro che si chiama maestro Huang che le insegnò le tecniche pittoriche tradizionali cinesi il maestro Huang le spiega e il bello nella pittura secondo l'insegnamento degli antichi maestri non è il bello come lo intendiamo in occidente la bellezza della pittura cinese è la linea animata dalla vita quando raggiunge il sublime della natura il brutto non significa la bruttezza di un soggetto che al contrario può essere interessante se è autentico questo nutre un quadro brutto è il lavoro della linea il lavoro eccessivamente ben eseguito è raffinato il mestiere dell'arte l'artigianato manifestazioni del folle dello strano del bizzarro dell'ingenuo dell'infantile disturbano perché esistono in ciò che ci circonda hanno la propria personalità il loro gusto sapore un'intelligenza sono stati d'animo che devono essere sviluppati e tu dice il maestro a Fabienne Verdié come pittrice devi cogliere queste sottigliezze ma l'abilità che in occidente e la manualità che in occidente sono spesso considerate delle qualità sono un disastro perché ti fa mancare l'essenziale la goffaggine e il fallimento sono molto più vivi questa prospettiva cinese non ci permette di vedere l'importanza dell'abilità tecnica in modo diverso lo che il maestro Huang insegna al suo allievo è l'importanza del suggerimento nascotto in un'opera si tratta di suggerire cose senza mai mostrarle l'ineffabile in pittura nasce da questo segreto la suggestione devi essere in grado dice il maestro devi essere in grado di cogliere questo stato tra ciò che viene detto e ciò che non viene detto tra l'essere e il non essere se cerchi di comunque di completare un'opera di racchiudere una composizione beh allora questo muore sul momento Fabian Verdiardier poi cita il musicologo francese filosofo Vladimir Yankelevich è nell'incompiuto che lasciamo che la vita si posi che il maestro Huang osserva anche se uno cerca di completare il dipinto questo muore si finisce sempre per aggiungere una pennellata aggiuntiva così nella varietà delle espressioni artistiche di oggi la mancanza di perfezione artigianale non può essere un criterio esclusivo per rifiutare un'opera in quanto di minor valore una piccola quantità di lavoro artigianale non significa a priori un lavoro secondario è vero anche il contrario un'opera che mostra grande virtuosismo e abilità non è automaticamente un'opera di grande valore altrettanto importante è lo spazio di suggestione che offre l'opera d'arte un quarto ostacolo riguarda la critica che le arti sono per i ricchi e che sarebbe meglio spendere le energie e le finanze sulle opere caritatevoli ci si pone la domanda l'arte è un lusso è superfluo l'introduzione di opere d'arte in una chiesa in una comunità cristiana richiede un minimo di mezzi finanziati la visione e la morale cristiana sono sempre state segnate dalla difesa dei poveri dalla vedova dell'orfano nonché dal diritto a un'equa remunerazione del lavoro svolto spendere i soldi su progetti artistici lascia un po' perplessi può essere una priorità spendere i soldi su soggetti o per oggetti quando ci sono così tanti esseri umani nel nostro mondo le cui vite potrebbero essere trasformate se la stessa quantità di denaro fosse spesa per loro questo dilemma ossessiona ogni pastore e ogni cristiano che prende sul serio il messaggio del Vangelo se ti è convinti che la funzione di un'opera d'arte collocata in una chiesa sia solo decorativa beh si ha il diritto a quel punto di considerare l'arte come un lusso se l'arte sacra fosse un lusso e dunque allora spendere tempo denaro su di essa non sarebbe più giustificabile il cristiano non è chiamato a vivere nel lusso ma nella semplicità se l'arte fosse davvero un lusso sarebbe giunto il momento di mettere in vita tutte le opere d'arte che si sono accumulate nelle nostre chiese nel corso dei secoli in ogni modo ciò che distingue l'arte sacra da molte altre forme d'arte è che non è solo decorativa che dice qualcosa del mistero del rapporto tra Dio e l'umanità sfida insegna invita alla preghiera alla riflessione o all'azione l'arte sicuramente cambia il modo in cui guardiamo le cose introduce altri modi di percepire le cose e i fatti che ci circolano può aprire la nostra mente alle meraviglie della creazione di Dio o ai richiami della società oppure può cambiare la nostra visione delle erite e delle gioie del nostro tempo l'opposizione all'investimento di tempo e denaro in arte o in beneficenza non crea un dibattito infruttuoso non dovremmo piuttosto parlare di complementarietà o complementarità tutto è in proporzione ovviamente ma già il libro del Deuteronomio ci ricorda che l'uomo non vive di solo pane ma di tutto ciò che esce dalla bocca del Signore Gesù assume questa sapienza quando è tentato da Satana nel deserto duprire gli affamati è senza dubbio una missione essenziale che ogni cristiano dovrebbe prendere a cuore ma gli affamati hanno bisogno anche di altro tipo di cibo le arti completano il cibo terreno e permettono all'uomo di prosperare il testo di Maria Maddalena di versare una bottiglia di nardo di alabastro sui piedi di Gesù suscita l'indignazione di quelli che erano presenti che lo vedono come un atto di spreco questo profumo potrebbe essere venduto per più di 300 denari e donato ai poveri Gesù risponde lasciate lasciare perché la disturbate è una buona opera quello che ha fatto per me perché avrete sempre con voi i poveri e quando vorrete potrete far loro del bene ma non avrete sempre me l'arte che esprime o crea o crea un legame con Cristo non è quindi uno spreco dovremmo anche ricordare che la maggior parte degli artisti non sono ricchi e non sono tutti presenti a Sotheby e a questi livelli solo un piccolo numero di persone raggiungono la celebrità e la ricchezza in Germania 83% degli artisti guadagnano meno di 15.000 euro all'anno 83% e un sondaggio di Londra rivela qualcosa di simile per il Regno Unito una commissione di chiesa può essere anche un gesto di solidarietà verso di loro e l'esperienza della Germania dove il discorso è molto vivo mostra che le comunità che lavorano con gli artisti sono quelli che sono più probabili di sviluppare una narrativa con gli altri l'argomento finanziario non deve essere usato come pretesto per rifiutare il dialogo con artisti invitare gli artisti a condividere i propri talenti con i fedeli anche nel contesto delle celebrazioni liturgiche e anche un aiuto per coloro che sono alla ricerca di un luogo di espressione e condivisione vediamo veniamo alla seconda parte di questo discorso di questa presentazione vediamo osserviamo i posti dove l'arte può aiutare la chiesa di oggi e come la chiesa può posizionarsi in questa relazione gran parte della teologia dell'immagine consolidata nel corso dei secoli ovviamente esiste ancora ma le evoluzioni nella società nella chiesa e nelle arti richiedono un arricchimento di questa teologia in modo che il rapporto tra le arti e la chiesa possa essere portato a una nuova fioritura vantaggiosa per entrambi le parti per concludere questa presentazione questa seconda parte vorrei sottolineare brevemente cinque dimensioni che i teologi potrebbero considerare in questo contesto il primo posto è di riconoscere che l'arte è un posto per l'interpellanza per la sfida per le questioni di oggi la chiesa significa vivere il messaggio del Vangelo in un dato tempo e luogo è il corpo di Cristo in evoluzione attraverso la storia con le sue tradizioni ma ancorato al contesto odierno il Concilio Vaticano chiama i fedeli a leggere i segni del nostro tempo le espressioni artistiche sono parti di questi segni che ci dicono qualcosa su ciò che commuove spaventa o delizia le persone di oggi le arti sono uno dei luoghi in cui si può sentire il battito del cuore della società attraverso il loro lavoro gli artisti osservano il nostro mondo e con la loro abilità e carisma speciali comunicano ciò che vedono e lo interpretano offrono alla società includendo la chiesa l'opportunità di comprendere il contesto in cui essi e noi viviamo aspetta ai fedeli ascoltare le loro osservazioni ascoltare con umiltà il modo in cui comunicano a volte le loro espressioni possono essere provocatorie lontane dal confortevole aha erlebnis che ci piace vedere sentire tuttavia ascoltando le loro parole la loro musica compositori musicisti guardando le loro immagini ci viene ci viene data un'opportunità unica di aprire la nostra mente alle gioie e ai dolori del nostro mondo a volte questo può essere difficile per la nostra fede ma anche le sfide aiutano ad approfondirla Gesù sfidava costantemente i suoi apostoli e l'istituzione del suo tempo confrontandoli con incontri scomodi integrare le espressioni artistiche di oggi nel nostro cammino di fede ci impedisce di vedere la fede e la chiesa come luoghi di comodità dove possiamo isolarci dalle difficoltà della società le nostre artistiche espressioni di oggi ci portano ancora nella ci ancorano nel nostro mondo e ancorano la nostra fede dove dovrebbe essere nel mondo in cui viviamo nel suo recente film che qualcuno avrà visto il nuovo Vangelo del New Gospel il regista svizzero Milo Rao esemplifica questo principio così come lo spettatore o quando allo spettatore viene presentato alcuni passaggi del Vangelo lui interrompe sempre il suo film o le sequenze del film chiamando l'osservatore di nuovo alla realtà e mostrando alcune delle realtà dei raccoglitori di pomodori e dei migranti nell'Italia del Sud ripetutamente il direttore porta l'osservatore a questa realtà e questo è quello che l'arte dovrebbe fare o potrebbe fare provocandoci per ritornare alla realtà e cercare di capire che cos'è il mondo di oggi un secondo possibile posto beneficio dove la Chiesa potrebbe trarre beneficio nell'arte e l'espressione dell'interesse della Chiesa i cristiani sono chiamati ad amare il mondo che Dio gli ha affidato anche se il mondo contiene il male anche se fatti orribili accadono i cristiani sono chiamati a costruire il regno di Dio e di cercare di vedere quello che c'è di buono nel mondo cercare di osservare e comprendere il mondo in cui viviamo è fondamentale se vogliamo comunicare oggi il messaggio del maniere quindi dovremmo essere interessati al nostro mondo e sforzarsi di amarlo e il mondo dovrebbe sapere che noi siamo interessati a quello che succede al di fuori delle Chiese e delle nostre istituzioni in molte prefazioni alla preghiera eucaristica diciamo è giusto ringraziarli sempre e ovunque se solo si potesse comunicare a tutto il mondo al di là delle istituzioni anche nelle circostanze più disumane o assurde ma la Chiesa dovrebbe mostrare il suo interesse per le questioni contemporanee e introdurre l'arte di oggi nei posti di culto e mostrare ai cristiani che la Chiesa è veramente interessata a quello che succede al di là dei palazzi e le istituzioni cristiane ai cristiani ai cristiani importa quello che succede nel mondo oggi per esibire l'arte di oggi in posti dove la comunità cristiana mostra che il messaggio del Vangelo è un messaggio per oggi un terzo posto un posto in cui imparare adattare il linguaggio della Chiesa per trasmettere la fede cristiana se resistiamo a permettere agli artisti di oggi di abitare i nostri luoghi di culto rischiamo di avere solo rappresentazioni storiche in essi collegati dalla realtà odierna e dal linguaggio artistico e dall'immagine di oggi questo vorrebbe dire che diventerebbero disconnessi dalla società odierna le Chiese possono quindi facilmente diventare come dei musei di arti antiche se siamo sconnessi dal linguaggio e dalle immagini di oggi e allora il nostro discorso non riuscirà a raggiungere le persone portare l'arte di oggi nelle Chiese è molto difficile se non possiamo adattare il nostro messaggio avremo delle difficoltà portare l'arte di oggi nelle Chiese ci confronta con le lingue artistiche di oggi e ci invita ad aggiustare il modo in cui i credenti parlano della fede cristiana ci permette di trovare nuove parole e immagini che toccheranno i cuori di coloro a cui predichiamo e che e che si collegheranno al loro mondo quello che vedete qui la razza che vedete qui è un buon esempio di questo è un di un artista brasiliano che è forse la prima donna in assoluto ad illustrare l'apocalisse quando ci pensiamo il modo in cui pensiamo all'apocalisse abbiamo sempre immagini fatte da uomini e quindi non siamo sorpresi che si tratti di guerra e di violenza ma questa signora ha provato un altro approccio ha usato una tecnica per esprimere la rivelazione del testo e l'idea della rivelazione che è al centro di questo enorme progetto che è 34 piedi lungo questo arazzo che vedete qui in alto la rivelazione perché espone il tessile a due diversi luci la luce che riflette la luce UV e ogni volta un'altra immagine appare nell'arazzo e quindi è un modo di pensare a rivelazione espressa in questo razzo e credo sia molto importante che oggi siamo aperti a questo tipo di esperienza in modo da pensare a come comunicare la nostra fede al mondo e come possiamo implementare comunicare molto meglio introducendo nuove immagini invece di ripetere sempre le immagini che non comunicano con la maggior parte delle persone di oggi un quarto elemento è l'unione dell'artista è un modo per unire gli artisti nella loro ricerca di Dio non è un segreto che molti artisti europei forse anche altrove che abbiano un rapporto difficile con la chiesa quindi non è un segreto soprattutto come istituzione andare nei pressi di un artista e chiedergli su cosa stai lavorando attualmente perché stai raffigurando questo o quello è un modo di mostrare interesse per la sua vita e il suo lavoro proprio come un pastore di campagna potrebbe parlare con un contadino del posto del raccolto nella mia esperienza anche quando sono sospettosi dalla chiesa gli artisti sono abitati da una ricerca spirituale il loro lavoro li invita ad abbracciare la spiritualità qualunque sia la forma che assone questo offre un terreno comune fecondo per camminare insieme in un cammino dove alla fine come i discepoli di Emmaus i due discepoli scoprono finalmente la presenza del signore risorto e quindi dobbiamo camminare insieme prima di raggiungere questa meta gli artisti di solito sono molto soli nella loro attività e apprezzano incontrare persone che mostrano interesse per ciò che stanno facendo invitare gli artisti a esporre in una chiesa è per molti un gesto un gesto molto apprezzato anche se vivono lontano dalle realtà ecclesiali le chiese sono per loro luoghi molto speciali per mostrare il loro lavoro e la mia esperienza questo spesso fa crollare i loro pregiudizi e mostrano grande rispetto al luogo che li accoglie l'artista spagnola Cristina Lucas descrive l'impressione che alcuni artisti hanno della chiesa in uno dei suoi video si è filmata mentre andava alla cattedrale di Madrid per ricevere il sacramento della riconciliazione chiede ha chiesto al suo confessore perché la chiesa e gli artisti si sono allontanati così tanto questo influenza il mio rapporto con la comunità non so dove l'artista contemporaneo possa trovare un posto nella chiesa nel mondo occidentale è possibile parlare di arte è possibile parlare di arte senza menzionare il cattolicesimo e continua dicendo quando andavo in chiesa il prete parlava dei malati degli immigrati dei giovani dei moribondi oppure parlava della moralità o della Bibbia ma non l'ho mai sentito parlare dell'intera tradizione che lega la fede agli artisti quando entro in una chiesa vedo statue di gesso e immagini pie che non hanno nulla a che vedere con l'arte è come se la fede si fosse fermata 50 anni fa e quindi mi dico dice Cristina Lucas gli artisti non hanno più un posto qui tu non hai più un posto qui io poi così ho voltato le spalle alla chiesa e non mi sento più a casa che il Signore mi perdoni inoltre ho conosciuto artisti che siccome si sono dedicati a temi cristiani si sono trovati respinti dai soliti circuiti artistici non erano autorizzati a esporre in musei centri culturali o gallerie perché il loro lavoro riguardava il cristianesimo per citare solo un esempio che potete vedere alla destra del vostro schermo in un'incisione di Gustave Marchoul l'incisore belga che ha rappresentato il Belgio in festival internazionali di grafica di incisioni molto conosciuto negli ultimi anni 80 ha introdotto la croce nel suo lavoro e tutto il suo lavoro conteneva crocifissi di varie misure da questo momento in poi non è più stato invitato a partecipare in questi eventi se la comunità cristiana non offre a questi artisti come Marchoul e molti altri l'opportunità di condividere lo lavoro nelle chiese si riceverà le opere di questi artisti di buona volontà quante volte ho sentito la lamentela che i dirigenti della chiesa raramente commissionano artisti non si tratta di lusso ma di dare agli artisti il desiderio e i mezzi per dialogare con i contenuti della fede cristiana quinto punto o modo è l'arte come piattaforma per entrare in conversazione con i non credenti il defunto cardinale Godfrey Daniel diceva quando proponi di spiegare a un non credente la dottrina cristiana ci sono buone probabilità che ti volti le spalle quando proponi a un non credente l'insegnamento morale della chiesa scapperà ancora più velocemente quando proponi a un non credente di unirti di unirsi a te per assistere a un concerto della passione di Bach probabilmente accetterà questo l'arte è un modo non minaccioso di predicare rappresenta una soglia bassa per molte persone che non hanno familiarità con il cristianesimo o hanno avuto brutte esperienze con la chiesa apre uno spazio di libertà di parola e discussione un luogo non minaccioso in cui i credenti e i non credenti possono entrare in conversazione è un punto specifico è quest'opera d'arte che vedete nella cattedrale di Antwerp di questo artista che vedete sullo schermo lui cerca di mantenere il crocifisso nella sua mano cercando di tenere in equilibrio è questa immagine che esprime la difficoltà dell'artista di trovare un modo di trasportare la croce cristiana o qualsiasi croce ma anche questa relazione alla chiesa ed è un modo di esprimere che cosa l'arte possa fare invitando artisti di questo tipo ad esibire posti di culto aiuta a creare legami e portare nuove idee nei posti di culto sì allora volgiamo ad una conclusione allora il sesto punto è il supporto alla preghiera ovviamente non è un ruolo nuovo è una vecchia tradizione che le arti possano supportare la preghiera ma oggi più che mai mostro questa opera d'arte piccola questo abito di bambino di neonato che è un monumento nella cittadale di Bruges per evocare le vittime dei casi di uso quindi quando guardate questa opera d'arte è un invito alla preghiera per le vittime per quelli che hanno avuto la loro vita nascosta a causa le esperienze che hanno vissuto quindi ecco il titolo e quindi il punto finale del possibile beneficio della conversazione tra artisti e chiesa come opportunità di costruire un senso di comunità in molti progetti avete la possibilità di come conclusione vorrei dire che l'atteggiamento della chiesa nei confronti delle arti visive è un'espressione di come si situi nei confronti della società gli artisti hanno il dono speciale di trasmettere attraverso la loro arte ciò che percepiscono nel mondo possono insegnarci attraverso il loro lavoro ad approfondire molto la nostra fede e la chiesa vuole riguadagnare la sua rilevanza nella società odierna dovrebbe correre il rischio di impegnarsi in una conversazione con gli artisti non solo per insegnare o per scopi devozionali ma per per ascoltare per imparare per aiutare a superare teniamo in mente la capacità di meravigliarsi la prima reazione di nostra vergine quando l'arcangelo Gabriele la visitò fu una di apprensione ma dopo questo momento iniziale lei si apre al messaggio dell'arcangelo e gioiosamente si meraviglia attraverso questo processo quindi passando dall'apprensione alla meraviglia lei si apre apre la porta per ricevere la vita contemplando ascoltando felicemente leggendo l'espressione artistica di oggi ci è data l'opportunità di mantenere la nostra capacità di meravigliarci di fronte al mondo che il Signore ci ha ci ha affidato se lavorare con artisti e commissionare opere d'arte richiede del tempo e ha un costo non è necessariamente un lusso e può decisamente essere allo stesso tempo un gesto di solidarietà con quelli che profeticamente hanno rinunciato a questo modo di vita in cui il materialismo occupa un posto principale se l'arte della Chiesa è solo percepita come decorazione allora forse è largamente supergua ma dall'altra parte l'opera d'arte serve a stabilire un legame con la comunità e dare orgoglio alla comunità e incoraggia solidarietà provocando riflessione sulla fede e ci ricorda il supporto alla preghiera e quindi sarà capito che la spesa sarà farà la pena in questi tempi di pandemia le nostre società considerano l'arte come non necessaria non è dunque più urgente che mai più che mai che la Chiesa apra le sue porte agli artisti di oggi grazie per la vostra attenzione grazie padre Alain e ci sentiremo tutti quelli che hanno ascoltato non possono essere colpiti dal suo discorso per le sfide che ci ci sono e ci sono persone che vogliono mostrare la loro opinione non abbiamo molto tempo però cerchiamo di una cosa che ho visto nella presentazione è la presentazione del dolore nella relazione tra la Chiesa dell'artista quindi una valutazione onesta è stato un momento molto valido nella sua presentazione vorrei portare l'attenzione a Sor Maria Paolina Sor Paolina grazie padre Alain per il tuo discorso che ho provato molto stimolante per me come artista praticante molti dei punti che ha sollevato sono esperienze e preoccupazioni quotidiane quando le persone chiedono cosa faccio e io rispondo sono un artista probabilmente immaginano questa immagine idilliaca di un artista che tra scorse giornate di sole in uno studio vivendo una vita bohemian piena di feste poche parole è una vita da sognatore ad occhi aperti che non è appesantito dalle cose reali del nostro mondo ebbene la mia esperienza è abbastanza diversa la vita artistica estremamente competitiva e gli artisti devono lavorare sodo così come tutti gli altri una parte di essa si concentra sulla preparazione ottimale sulla padronanza delle nostre capacità ma l'arte è anche il nostro linguaggio è un modo di vivere poiché sono una suora religiosa è anche strettamente connessa alla mia vita spirituale pertanto nel chiedermi come rendere la migliore arte possibile ho studiato la situazione nella nostra chiesa e ho capito che ci sono due tendenze per valutare l'arte in contesti ecclesiastici li chiamo l'approccio dell'arte per le chiese e l'approccio dell'arte nelle chiese il secondo è forse simile a quello che il video di apertura ha mostrato il primo arte per le chiese questo approccio ha a che fare con l'arte che viene esposta in un ambiente sacro il secondo approccio considera l'arte come comunicazione attiva ed espressione della propria fede questo tipo di arte arriva dall'interno della chiese e va verso l'esterno tuttavia la chiesa cattolica si concentra prevalentemente sull'arte per le chiese che è dove iniziano molte problematiche lasciatemi spiegare perché la chiesa cattolica è liturgica segue delle rubriche e quindi non c'è un vero spazio in più per aggiungere altro inoltre l'arte visiva ha una lunga tradizione iconografica che si riconosce facilmente e nessuno si aspetta esperimenti in questo settore che si si collega al punto di aggiustare un po' il linguaggio della chiesa come ha fatto lei padre mi è piaciuto veramente molto tuttavia c'è una domanda ci si chiede cosa sia appropriato a mostrare nelle chiese e questo è il punto cruciale in accordo con Sacro Santo in Concilium le persone incaricate di esporre l'arte nelle chiese credono che la chiesa debba mostrare solo arte di alta qualità che la ricerca di tale qualità debba estendersi oltre la propria affiliazione religiosa a cui sottoscrivo calorosamente tuttavia rimane la domanda su cosa sia l'arte di alta qualità è legato per caso allo scopo dell'arte Sacro Santo in Concilium definisce che l'arte serve per il culto cattolico l'edificazione dei fedeli la promozione della pietà e della formazione religiosa secondo Nicholas Walterstorff l'arte raggiunge la sua eccellenza artistica quando soddisfa il suo scopo e continua dicendo che le opere d'arte nel culto sono sempre al servizio della liturgia ed è l'unico scopo della sua esistenza nell'ambiente sacrale allo stesso modo Kenneth Schmidt e Roger Holman mettono in dubbio l'importanza della qualità estetica considerando che l'opera d'arte debba servire principalmente ai suoi scopi devozionali quindi possiamo vedere che la questione della qualità dell'arte per uso religioso è discutibile perché quando serve al suo scopo la qualità estetica non è necessaria pertanto propongo che sia l'autenticità a giocare il ruolo principale nella valutazione dell'arte è un forte movimento di curatori di chiese in Europa e probabilmente anche altrove che sostengono che gli artisti credenti non possono produrre grande arte di qualità perché sono troppo abituati alle forme tradizionali e che non possono sviluppare artisticamente il che è un punto che mi sta davvero molto a cuore quindi ho chiesto mi sono chiesta molte volte cosa circono dagli artisti senza formazione religiosa secondo me desiderano l'autenticità di un'arte che non ha mai perso il suo legame con il mondo e le sue esigenze adesso è il momento di un breve intermezzo storico ma sarà davvero breve perché è un soggetto complesso quindi mi occuperò solo di un elemento al cavallo del diciannovesimo e ventesimo secolo gli artisti hanno rivolto la loro attenzione ai mutevoli temi del mondo influenzati dal modernismo dalle due guerre mondiali e dall'avanzata tecnologica la società aveva appena sperimentato una forma di disincanto nei confronti del progresso dell'umanità la scienza serviva alla violenza e alla morte sembra che la chiesa non abbia offerto risposte concrete neanche a queste domande inoltre c'era una paura generale del modernismo e delle sue posizioni liberali nella chiesa pertanto i leader religiosi adottarono una posizione piuttosto difensiva nei confronti di tutto ciò che potesse assomigliare queste idee l'arte inclusa alcuni autori chiamano questo fenomeno un divorzio fra arte e religione e sono scettici riguardo al loro ricongiungimento futuro se inizi con questo finale pessimistico sarebbe proprio meglio che io iniziassi a cercare una carriera migliore di quella artistica tuttavia c'è ancora speranza sorprendentemente proviene dalla tradizione evangelica come sapete le chiese riformate hanno dovuto compiere un lungo viaggio per riconoscere l'importanza delle arti visive per il culto non davano nulla per scontato a causa della loro storia iconoclasta pertanto hanno dovuto iniziare da un'angolazione diversa la maestria artistica è stata riconosciuta come un dono dato ad alcuni membri della congregazione l'arte come strumento di predicazione visiva è stata riconosciuta più come una vocazione per il mondo che come decorazione di chiese o anche di oggetti blasfemi in effetti questo approccio pastorale non giudica l'arte dai suoi risultati affatto ma piuttosto come un processo profetico Makoto Fujimura artista e scrittore americano giapponese contemporaneo a cui vorrei portare la vostra attenzione perché è una delle poche persone provenienti dalla tradizione cattolica paragona questa capacità profetica al testo della lettera agli ebrei io cito l'arte dovrebbe catturare l'ipostasi o la sostanza delle cose sperate di cui lo scrittore di ebrei ci parla per servire la nostra cultura e rivelare l'evidenza di cose non viste fine della citazione un altro brillante autore e cappellano d'arte stiamo parlando DJ Scott McElroy lo descrive come lo scopo degli artisti e cito l'osservanza osservare il mondo e ricevere messaggi di Dio e poi tradurli ed esprimerli ai loro simili chiuda la citazione l'approccio pastorale alle arti trova la sua risposta nell'organizzazione di cappellani ad arte o ministeri delle arti che operano sia nelle chiese cattoliche che in quelle riformate gli artisti possono incontrarsi e discutere della loro vita spirituale che si manifesta attraverso la creazione il supporto che potrebbero ricevere è fondamentale condividendo visivamente la loro fede con altri artisti e simultaneamente con altri membri della congregazione possono imparare a comprendere la loro creatività e il creatore quindi possiamo vedere che i miei approcci all'arte nella nostra chiesa possono essere molto distinti vorrei concludere riassumendo alcuni svantaggi dell'approccio dell'arte per le chiese in primo luogo è l'argomento sulla qualità dell'arte che alcune persone usano quando si rifiutano di mostrare il lavoro di artisti credenti nelle chiese abbiamo visto quanto sia ambiguo il termine qualità pertanto i curatori della chiesa desiderano chiaramente l'autenticità che non riescono a trovare nelle nostre congregazioni e dice tanto sulla nostra chiesa e sulla formazione che offre in secondo luogo l'utilizzo dell'approccio dell'arte per le chiese ha dato origine a un fenomeno che non mi aspettavo la concorrenza con organizzazioni secolari le chiese che si comportano come curatrici sono sotto grande pressione al fine di mostrare l'arte più in voga e questo per raggiungere un livello di qualità che le qualificherà a ricevere sovvenzioni e fondi pubblici trovo questo atteggiamento molto problematico non solo a causa della costante mancanza di sostegno per gli artisti da parte delle chiese ma perché questi curatori di chiese dipendono dalla fama degli artisti per la quale non hanno alcun merito non esiterei a chiamarlo sfruttamento inoltre questo comportamento di richiamo commerciale ha poco a che fare con la comunità che poi la chiesa dovrebbe essere un altro effetto di questo sistema e trovo che mi dispiace essere così pessimista è che la congregazione dei fedeli della chiesa viene trattata esclusivamente come apparato ricevente sebbene possono esserci attività come discussioni e riflessioni comuni sull'arte è mostrata i membri della congregazione sono piuttosto dei consumatori tuttavia adottando l'approccio dell'arte nelle chiese la comunità compresi gli artisti potrebbe attivamente collaborare la sua crescita spirituale come effetto di conseguenza questo impegno può supportare la comprensione dell'importanza dei laici e portare equilibrio attraverso la responsabilità condivisa per il potere la formazione nella chiesa che è la comunione a cui tutti aspiriamo e può diventare il luogo in cui tutti possono sentire il senso di appartenenza grazie per la vostra attenzione grazie Maria Paolina credo che sia interessante quello che ha detto dei curatori della chiesa e come sembrano essere molto attivi nel mondo moderno dell'arte del mercato artistico non credo aiuti questa relazione tra la chiesa e gli artisti come diceva Elena la chiesa a volte è spesso chiusa nei confronti degli artisti e poi sentiamo da te che le persone che promuovono l'arte lo fanno in modo che stanno giocando un po' un gioco quindi non è spesso di aiuto al problema quindi grazie molto per la sua prospettiva dal suo punto di vista come artista attiva nel campo vorrei cercare di passare alcune domande perché ci sono state delle domande in arrivo e lei ha menzionato il concilio sacrosanctum e quindi comincerò con domande che menzionano questo un riferimento padre Alemo e lei 122 123 fa la distinzione tra arte arte religiosa e arte sacra e 123 enfatizza che non ci sia un arte uno stile cristiano di arte ma l'importante è la fede dell'artista e credo che ci sono state un numero di domande che pongono la domanda quindi gli intellettuali che vogliono imporre un'apertura sui fedeli che potrebbero scandalizzarsi nell'espressione della fede che non sono necessariamente coerenti con la fede cristiana e quindi non per fissarsi sullo stile o qualcosa del genere ma per essere sicuri che la componente della fede ci sia una di queste persone ha detto noi dovremmo avere più una corte dei gentili dove c'è un dialogo con i pensatori contemporanei o gli artisti ma non in un posto dove potrebbero rischiare e quindi mi chiedo cosa pensa di questo che forse non abbiamo troppi posti diversi per un dialogo in modo che tutto si focalizza sulla chiesa e poi abbiamo tutte queste necessità di conflitto o padre Alain oppure suor Paulina può rispondere cosa ne pensate forse Ellen potrei dire che la definizione di arte cristiana o arte sacra è un molto complesso non penso che nessuna dei criteri che ha menzionato è abbastanza o sono abbastanza per definirli come spiegherò o proverò a spiegare nel mio documento scritto il criterio il criterio della fede dell'artista per me non è una cosa essenziale perché di quale fede stiamo parlando stiamo escludendo Bach perché non era cattolico ci sono limiti quindi a questo criterio quindi il criterio iconografico non è valido eccetera eccetera e quindi in ogni modo la definizione è molto complicata e quindi penso che dobbiamo usare questo termine con grande cautela se dobbiamo utilizzarlo questa è la mia esperienza è la mia esperienza non è perché stai introducendo un oggetto in una chiesa che improvvisamente diventa un oggetto sacro eccetera e quindi invitare di utilizzare questo termine con molta cautela perché è un aspetto molto complicato una questione molto complicata ok grazie sua Paolina se vuole rispondere a riguardo vorrei solo aggiungere che sono in accordo compadre Alain è una presentazione molto breve per dare una risposta così complicata è come se Merce e Eliade tutti hanno una capacità di riconoscere le cose sacre tutti hanno una capacità diversa di riconoscerle se parlo per me stessa io sono rimasta scandalizzata da alcune opere d'arte in ambienti sacri e ho dovuto chiedere perché e perché lo ero perché sono sentita forse l'aspetto morale forse cruciale per noi e non ci aspettiamo di vedere cose al di là degli schemi potrebbe essere un ostacolo per alcune persone e quindi penso dobbiamo essere molto cauti quando introduciamo in posti di culto e sono in accordo che dobbiamo forse uscire dalle chiese dagli edifici e quindi fuori nel mondo per parlare della fede quindi non è solo un invito alla gente che entra perché giochiamo in casa ma è la questione uscire fuori e parlare con la gente parlare della nostra fede attraverso può sposarsi anche l'arte quindi ma non solo l'arte nei palazzi quindi la chiesa come edifici quindi abbiamo altre domande Elena vorrei solo aggiungere qualcosa molto importante non sono particolarmente non sono completamente in accordo perché è molto importante l'arte contemporanea e entri nei posti di culto marginalizzeremo tutta l'espressione artistica se li organizziamo solo in chiese il mio punto quello che cercavo di comunicare è che la nostra preghiera ci aiuteranno a pregare in termini contemporanei e la preghiera succede nelle chiese e confrontando se siamo in accordo o meno con lo stile artistico non è questa la questione ma è una cosa di oggi di avere questo presente in un posto dove dove la comunità si incontra per pregare per celebrare l'eucaristia eccetera in presenza di queste espressioni artistiche questo per me è molto importante e non sono scioccato da un nudo sono molto più scioccato da una statua di gesso che ha il braccio rotto ok grazie vorrei passare d'altre domande ma dovremmo veramente chiudere in questo momento e quindi vorrei ringraziare il nostro speaker principale padre Alain e suor Paolina la nostra correlatrice vorrei ringraziare Giuseppe che ha fatto un ottimo lavoro di traduzione anche tutte le persone che ci hanno sottoposto delle domande mi dispiace che non abbiamo potuto rispondere a tutte ma sono tutte molto importanti e faranno parte della nostra riflessione forse riusciremo ad introdurre in un altro modo forse in un altro webinar di cui farete parte la prossima è lunedì 26 aprile di sera all'ora di Roma alle 7 di sera permettendo ai nostri partecipanti americani di avere un ruolo nella discussione e sarà su un'immagine molto importante del sud Italia in storiano all'immagine di San Domenico in storiano nella predicazione dominicana è un soggetto molto importante per il Mediterraneo e specialmente per l'America Latina e sono molto contenta di che avremo un frate dall'America Latina dall'Argentina come uno dei partecipanti in questo dibattito in questo webinar poi avremo altri webinar il 3 maggio e il 5 maggio che si succederanno prima delle nostre conferenze principali vorrei ringraziare tutto il team che sono stati nei retroscena che ci hanno supportato in questo nostro primo webinar e speriamo veramente di vedervi tutti ancora la settimana prossima e nei altri webinar a venire grazie mille per la vostra partecipazione grazie mille